Familiari, amici, conoscenti. Si sono stretti tutti intorno alla signora Barbara, la mamma di Nicole Brando, morti con papà Andrea sabato scorso nel terribile schianto in A14. Salme rientrate questo pomeriggio. Camera ardente allestita nella casa funeraria di Mora del Silenzio a Montesilvano. Domani mattina i funerali nella parrocchia della Visitazione di Maria in via Caravaggio a Pescara. Strazio, dolore, incredulità, fiducia e speranza per Diego, l'altro figlio di Andrea e Barbara, coinvolto nel terribile frontale di sabato scorso, la compostezza di Luca, fratello di Andrea Silvestrone. Non ci sono parole. Tragedia immane, ma a dir poco. Non c'ho parole. Stava venendo da me. E quindi a fare una sorpresa con i bambini e ha fatto questo incidente e ha spezzato la vita di tutti, purtroppo, dei bambini, sua. La nostra famiglia è distrutta in questo momento qui e tutto avremmo pensato, tra una cosa del genere, soprattutto i bambini. I bambini che ho visto ieri. Io e Paolo abbiamo fatto il riconoscimento e da ieri mi è chiamata la vita perché finché morirò avrò sempre le immagini di loro lì. E quindi penso che sia la cosa peggiore che poteva capire, soprattutto quando c'erano dei mezzi di bambini, che lui aveva una forza incredibile. I bambini erano la sua forza, lui viveva per questi bambini. I bambini lo consideravano un eroe. E quindi vedere spezzate le vite delle sue e dei bambini per noi, per la famiglia, è devastante. Salto Andrea che abbiamo conosciuto tutti qui a Montesilvano. Faceva della disabilità la sua forza personale per dare coraggio agli altri. Questa è una cosa straordinaria. Lui non si sentiva disabile. Diceva che la disabilità era una forza che gli aveva occasioni diverse rispetto a quelle che avevamo noi. Quindi era lui che dava la forza agli altri. Era lui che dava la forza anche a noi. Noi da volte lo vedevamo che stava male e stavamo male. E lui in realtà dava la forza a noi. Diceva no, ma io sono contento. Io ho delle patologie che mi permettono di giocare a tennis, di fare lo stesso alle mie attività. E ho tre figli. Quindi dice io non mi sento malato, non mi sento dicampato. Anzi, mi sento più forte degli altri. È una cosa impressionante. Adesso resta Diego. Si spera tantissimo, si continua a pregare per lui. Diego sta meglio. Non è ancora fuori pericolo, però è sulla strada giusta. E quindi adesso dobbiamo lottare per lui. Perché è rimasto lui. E lui è il motivo per cui ci spingi ad andare avanti. Perché se non avessi muto lui, penso che sarebbe stata molto complicata. E lui è il motivo per cui ci spingi ad andare avanti.